Un gran bell'evento, Presidente. Di quelle cose che ti mettono soddisfazione per quello che fai, per il tuo lavoro. L'ho spiegato, è stato non solo sull'onda emotiva della scomparsa di Gianluca, ma bisogna dare un messaggio preciso che anche il calcio è disciplina olimpica, anche se ovviamente di fronte alle competizioni mondiali, europee, alle coppe può sembrare marginale, ma vedi anche il discorso femminile che da noi oramai c'è una forza anche di audience, di spettatori impressionanti, ma poi l'Under 21 e la squadra olimpica, tra poco comincia questa avventura come tante altre squadre di altri sport, è perso verso Parigi 2024, Vialli fu anche artefice di una vittoria in europeo, e poi perché in questo campo Vialli era fedele testimone degli allenamenti della squadra, di quell'europeo che è stato un momento meraviglioso del nostro calcio, del nostro sport, e appunto come ha detto Roberto Mancini, tra un allenamento e l'altro si facevano la corsetta, per cui credo che è un'eredità anche morale, oltre che sportiva, importante, di titolare la Gianluca Vialli.